Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi do una piccola idea per una colazione intelligente, ma anche per una merenda simpatica. Prendiamo un kiwi, facciamo due, ma anche tre. Un'arancia, una banana, facciamo due. Ecco, sono un po' maculate, ma questo che ci frega. Integriamo il tutto con un bel succo santal, soprattutto vi consiglio questo 100% exotic, ottimo. E poi, ovviamente, in ogni cosa che si rispetti, si butta dentro un bel multicentrum, ragazzi, perché il multicentrum fa... Mi raccomando, consigliabile, almeno scaduto da due anni. Ecco, controllate, perché se non è scaduto, che lo usiamo? Poi, prendiamo delle patate precedentemente bollite. Vedete? Bollite da 7-8 anni, insomma. Quando fanno questa crosta nera, e anche un inizio di muffa, insomma, sono perfette per la merenda pomeridiana. Poi, questo l'ho detto, questo l'ho fatto. Benissimo, noi puliamo tutto, frulliamo tutto. Abbiamo anche un simpatico galletto. E vediamo i minuti per cui questa cosa va tenuto di imposa. Quindi, frulliamo e lasciamo lì ad agire tutti questi ingredienti magici della nostra merenda. Bene, finito il tutto, cosa facciamo? Prendiamo questo frullato meraviglioso, lo mettiamo in un barattolone e lo diamo anche di dovere. Ma noi, ovviamente, ci prendiamo una busta di mortadella e ci facciamo una piadina. Top! Baci!